Ehm Salve 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 Ci dica, come è passato la notte? Ma è abbastanza infredosito, sono ancora fatto raccontarlo. Hai stato importunato sessualmente da qualcuno? No, grazie a Dio no. A caso? Grazie a Dio no. Lei? Io c'ero a fianco... Scoregge? Eh? Scoregge? Ho creato l'ambiente. Ciao batteria. Rappino, una dichiarazione per il mio telefonino. Mi sei scaricato la batteria. Vabbè, importante. Ciccio, la batteria da 1000.000. No, è che...